Salve a tutti cari amici di youtube sono io Amos Danda e sono qui nelle vesti di Amos Danda così come mi vedete normale ma va dalle ciance vi voglio dire che vi aspetto questa domenica alla festa di carnevale come l'anno scorso che avevo debutato con l'uomo tigre quest'anno devo debutare con Goldrick vi aspetto questa domenica in tanti molti bambini che ci saranno all'oratorio verranno ascoltare Giammos cantando come mi avevano ascoltato l'anno scorso quando avevo cantato l'uomo tigre quest'anno facciamo la discesa di questa mitica canzone che si intitola ad los uforbo ma non è quella iniziale ma bensì quella finale quindi ci vediamo questa domenica nella vecchia chiesa come l'anno scorso e vi voglio vedere in molti e in tanti che la festa è per tutti grandi piccoli l'importante che venite a vedere Giammos nella vecchia nella vecchia sede della madonna della strada e quindi ci vediamo questa domenica ok vi aspetto in molti e in tanti venite tanti bambini venite tanti genitori nonni e zii perché questa domenica dovrà debutare Giammos quindi ci vediamo questa domenica di sera alla solita ora ok ci vediamo domenica ciao ah dimenticavo titolo della canzone Goldrick ciao